Figo! Ma prova a dire che non te lo meritavi. E secondo te le offese che fai tu a me e io me l'emerito. Figo figo, ho letto, ho letto che l'epic domani sblocca poi io. Perché il punto è che se tu sei in live io non posso fare a meno di te. Tu puoi fare a meno di me, basta che fai a meno di me in live. C'è un team Pallino, c'è un team. C'è un team? Ah sì. Io a te lo qua giù. Pallino non fare lo stronzo, secondo me non ricordo. Eh Pico, abbassa un po' il tuo rank di parolarci, grazie. Non ti basta averlo scioppato tutto Pallino? No, se non bambini capisciano. Ho dei cildini qua. Uno. Vegetta, non ho voglia, non ho voglia, non ho voglia di parlare con te. Vedete? Pallino se ti serve. No vabbè, vai, vai. L'altro c'è qualche pussone io, dov'è che sono? Eh, vado io l'altro. C'è qualcuno che... Ho una notizia, scrive. Vai dai scappa. Ho una notizia, no ho una notizia. Dai pizza, non è vero, neanche tu puoi dire parolazze. Ti ho ripreso tante volte. È qua, dietro. È qua. È andato. Però c'è ancora qualcuno, c'è ancora qualcuno, occhio. Ho sentito qualcuno costruire. È certo, quando ti fa comodo non parli eh. No, non ho voglia. Buona. Mamma mia che spacca marroni che sei vegeta, oh. Ah, tu che col mio vegetino? Ma che paglia che è, veramente non lo sopporto. Ma secondo me veramente? Sei Michael che ti sento molto a scorreggiare col microfono. Stavo per dire una cosa, ma molto così. Mi dispiace, ripa il microfono di Michael. No. Hai la ragazza nuova, grande Kirill. Grande Kirill. Allora io direi di fare così. Ho una notizia, è che la pallina non ha una notizia. Ciao, subscribe, ciao. Pallino mi sento. Eh, forte e chiaro adesso, molto meglio, grazie. Perfetto. Ok. Ciao, momenti e migliori su Fortnite. Benvenuto in live con la famiglia Pallino. Iscriviti, lascia un like e seguici su Instagram. Solo cinque minuti, solo cinque vedrai. E del pallino ti innamorerai. Ed il prosciutto è così. Oh, è così. Pallino possiamo andare qua dal benzinaio e possiamo prendere un po' di lutto. Sì. Qua hanno luttato benissimo però, eh. Cacchio, sono stati veloci a luttare. Appunto. Non so quando è bene fatto, ma guarda. Sto prendendo un po' di materiale, un po' di immobili. È ora di cambiare sigla e nuovi benvenuti. Eh, a me piace quello. Pallino, ma... Per esempio, dopo che ci sono fatto il giro... E come ti chiamavo? Non ti ricordo questo nome. Pallino e i soldi. Ma ti dirò di più, che se non c'è nessuno di nuovo che vuole giocare, rimani dentro ancora tu. Ok, ok. Funziona così, quindi questa sera potrebbe essere la tua serata fortunata, Michael. Ok. Pallino e i soldi. E se li vencerò, tienili per il viaggio, andate e ritorno. Prendi il mondo. Non so. Vegeta, va a cagare, va bene. Eh, la janta la prenderò. Ciao, famiglia. Vai, vai, prendila, prendila. Se ho mangiato, Polo lo spiedo. Ah, tu che col me, Vegeta? Ciao, Davide, ciao. Benvenuto in live con la famiglia. Pallino. Iscriviti, lascia un like, seguiti su Instagram. Ciao Andrea, ciao Caotic. Se vuoi qua c'è questo. Caotic, devi darmi il tuo nome Epic e ti metto in lista. Ho un cazzo per bianco. Eh, perché non è internet, non è il camion. Brutto cancano. Momenti milioni su Fortnite, devi dirmi... Devi dirmi il nome Epic, devi essere iscritto, devi aver messo like e devi seguirci su Instagram prima di giocare. Grazie. Ciao. Per un semplice questione di lag, eh, perché se non ti sei iscritto lag a bestia, eh. Ehm... No, Flavio, niente di particolare. Polino dai 10 minuti ti ho spazzito. Vabbè, Dede, quando è finito dai la tua entri. Qua se vuoi ce ne dico. Chico è stato bannato, Amin non so. Ehm, no, no, la Google non mi serve. C'è anche la Tamburo qua. Ok. Ehm... Qua... Uzzolento. E uno di tre di... Ciao amici di Gigliotti. Ciao, ciao, ciao. Ciao ragazzi. E lasciateci like. Non perdete i pallini. Mila... Io me la prenderei comunque che la pallina dopo tutto ancora non conosce il tuo nickname Epic. Non lo dovevi fare, non lo dovevi fare. Ero convinto che ci fosse una testa. Ah, è Milan. Ah, ok. Milan. Milan. Andiamo qua. Se mi dicessi che ho il salta coda. Ok, vabbè. Impossibile perché se non sei il modellatore non puoi avere il salta coda. Non si dice il salta coda, scavalca poveri. Ma dai, scavalca poveri. Che triste. Ma dai, scavalca poveri. Mi prendete a blu qua. Gioco alle 9. Ah, tra un'ora allora. No, perché io sto andando via con il doppio cecchino. Sto andando via con il cecchino quello da multicolpo e il singolo. Ah, ok, ok. Va benissimo. Perché a me piace... Uh, qua c'è un altro cecchino. Se mi dicessi pure che sono il nostro top donator. Eh, va bene, io sono contento se sei il top donator. Ma devi entrare con il tuo profilo quello che hai... Oh, oh, pallino qua c'è ora lo mostro per inglese. È un po' da... E la vita, la vita. No dai, non lo prendiamo. La vita l'è bella, l'è bella. Falo esplodere. Anche se però... Cioè che conviene... Vabbè, o mai. Conviene tenerlo in vita, secondo me. Ok, pizza. Cioè parcheggiarlo fuori da safe, roba del genere, insomma. Perché adesso in teoria non si genera. È un altro adesso. Vai pure prenditi la cassa, io vado avanti. Ho una jump. Eh, in casa ho una jump. Sì, puoi giocare anche da... Ah, pallino per tenere un mese. Ah, sei tu a Crinder. Ehm... Ma papà sei che son pieno io, lo cacchio. Ma quanti nomi mi fate, ragazzi? Vabbè, tanto ti lascio il dino, ti lascio il dino. Ma quanti nomi? No, io ho i cidini. Lascio pure lì giù, ne ho sei io. Devi mandare la richiesta al pallino, però mi lascio. Anzi, lascio 5 impulso. No, allora, aspetta, lascio giù i cidini e porto via il medikit io. Ok. Stato se te ne sei... Dovrei sentirla, forse magari l'ho sentita, ma io non conosco. Ok. Ma non è tanto istante, secondo me possiamo andare a piede e andiamo... Sì, a Crite è a 72 o 73 euro, se non sbaglio. Ehm... Beh, nonno, nonna è quasi a 110. No, beh, forse no, non lo so, anche già oltre i 17, sai? Sì. Eh, e quegli altri due erano anche della trasera. E dopo? Allora, siamo in 21. Ma... Questi sono quelli... Metà della terza, però... Quelli alti. Ah, io ho già... Ehm... No, mi sembrava, mi sembrava. Però era un palo. Ho scambiato le teste del palo per una persona. Solo 5 minuti, solo 5 metri. E del palino, innamorerà. Vado a prendere la cassa qua sotto e io... Sì, sì, io prendo questo. Cacchio, altri splash, vabbè, vabbè. Ehm... Ok. Un altro robot. Ti serve a farlo sparire. Palino, ti servono dei colpi? Ti servono colpi di qualcosa? No, dai, ci ho messo bene. Ho 55 cecchino, 236 medi e 33 pompa. Quindi... Materiale. Materiale. Sono messo abbastanza bene. Ah, ok. Sì. Faccio un altro robot, però, che non ci conviene tenerlo in vita, perché... Ok, Dennis, quando torni ti metti in casa. Lo teniamo... Lo teniamo sennò come scorta per scappare, ma in caso, boh. Eh... O lo distruggiamo? Lo distruggo, dai, lo distruggo. C'era Davide che ti diceva carica il pompa, ma l'ho letto troppo nel ritardo. Ti ha ragione, Davide. Ah, ok. No. Eccomi. Carica sto pompa. Caricato! Ci sono casse qua. Voi che andiamo giù? Palline vorrei... Eh... Lutciamo alle fabbriche. Sì, ci sono ancora casse, però non hai luttato. Non ho luttato. Il pallino si chiama Alan, io mi chiamo Aldina e la Gicchina si chiama Jennifer. Il distributore blu che cosa dà? Eh... Splash lo puoi tenere Pallino? Eh... No. Cacchio, ormai Cacchio si poteva portarsene via tante di Splash. Pallino ne abbiamo lasciate già 6. Lancia granate... Hai sbagliato Flavio? No, vai te. Io non sono amata lancia granate. Il pallino non si chiama solo Alan. Vai Pallino prendi te, prendi te. Il pallino... Lo volevi tu? No, 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 no. Non posso tornare, però. Sono tranquilla. Ma quindi ti metto... Lui ha il sceltacoda, quindi... Qua c'è il pompa del nonno, se vuoi. E dopo le 10 facciamo le 1. Vai, vai, vai. Eh, a me lo piace, preferisco... Tattico bianco, no? Almeno verde mi piacerebbe. Sì, Flavio, si chiama Alan... Oh, siamo già in 11, eh! Il pallino si chiama Alan Carlo Uliana. Alan è un nome inglese. Altina è un nome italiano, ma è un nome vecchio vecchio. È un nome della mia nonna. E Jennifer no, è un nome inglese. Andiamo... Uh, stanno scendendo... Uh... Oh, è sparato. Ah, ok, no. Ciao Missio! Benvenuti in live! Perché io lancio granate però mi fa voglia, porca vacca. E in l' blockchain, in endgame sarebbe utile. Ah, perché non ha colpi? Tu hai i colpi! siamo in dieci vuoi che andiamo su a prendere lei grande no domani sarebbe day off domani sera no perché avevo visto nelle storie di instagram che c'era scritto che oggi c'era la live no no il martedì è day off di solito qualcuno in volo mi sembra no no è la gecchina con la musica la musica di sottofondo e mi ha confuso andiamo su quella zip avete finito i compiti ragazzuoli o siete buon punto no tranquilla 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 per io qua no te lei così lo distruggo secondo me sai che conviene invece salva arrivo dove è andato 26 26 1 no io starei nei ground beh guarda settembre è nulla però non questa settimana la prossima quindi qualcuno che ha fatto a schienarmi occhio non ho capito bene da dove però sono qua davanti a nord est vicino al filivio no no vegeta se cominci a rispondermi così siccome sono io che decido della chat io ti metto nella stanza i pensieri perché mi stai offrendo le balle mi stai cominciando a agitare mi stanno partendo gli emboli del nervoso c'è qualcuno che prova c'è chi non è ok da sotto da sotto la no non riesco a saltare porca di quella zoccola albero distrugge mi dispiace lo so che c'è grazie franzi benvenuto con la famiglia pallino grazie per l'iscrizione seguici anche su instagram lascia like porca vacca su instagram il nostro nome è pallino allora mi rompe le palle barretta sotto officiale davanti c'è uno sparare con il cieco ok flavio dove che sei ragazzo eccola eccola è là davanti ok vegeta se mi senti questo canale è fatto mettiamo così un mese anche della pallina se non ti piace ci sono altri milioni di di tanto dietro non dovrebbe arrivare nessuno vai ma mi diferma ah è vero che dobbiamo andare in safe porca vacca non capisco quelli che vengono qua no io andrei giù a piedi no noi siamo i canazzi perché il jump oppure di essere beccato in volo appunto quindi andiamo in via accanto è qua in safe pallino fa in safe ah ok si non è stato si io noi mangiamo presto per fare la live il bisogno possibile oh attento attento pallino abbiamo mangiato pollo allo spiedo polenta uuuuh ragazzi che verdura hai una splash pallino e e e no ho 6 shieldini ah c'è un medikit ti lascio 2 shieldini boh il medikit 1 me lo uso già adesso pallino devi cancellare quello del 24 eh adesso no si pallino c'è un po' in safe ok ti ho lasciato 2 shieldini e qua c'è un altro medikit shieldini prendo su eh però io adesso farei eh però io adesso farei se non fate la live non andate fatti farei così ragazzi pare che non mi piaccia eh prendo io il barri vai 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 io prendo il multicolpo adesso mi sento cos'è invece facendo la live mangiamo le 6 e mezza come le galline mi sento un po' gallina parca vacca io ho mangiato funghi crudo e ciacchi crudo e cos'è ok accanto pallino accanto che dovrebbe arrivarne uno se eh noi se facciamo una live più o meno le 6 e mezza perché così va la mezz'oretta mangiamo e poi ora che sprepariamo tutto l'altra mezz'ora e cominciamo la live no porca di quella zoccola no no eh ho fatto una cagata aspetta aspetta volevo lasciargli la puzzola questo qua qua sotto ma mi sono spostato troppo presto aspetta arrivo grazie ti metto in lista qual è il tuo nome epic? porca troia che fighe che stupido mi sono stato ok siamo due contro due contro uno per meno ok sono tutti e due la sotto cacchio lancia granate adesso sarebbe stato figo ok no ma è per cercarti per l'invito allora forzone il pallino prima ti ha mandato l'invito ma tu eri in partita intanto facciamoci uno quindi hai perso il turno facciamo un broso pallino ah siamo due di due pallino due di due c'è qualcuno che sale c'è qualcuno che sale occhio ho visto dei passi però comunque loro sono fuori safe o no? c'erano granate qua dentro aspetta che vado a vedere provo a guardare coprimi un attimo vado a vedere se ci sono granate forse riesci a entrare anche alla prossima no niente che cacchio c'è già un iscritto io se vuoi ti metto in lista e devi darmi il tuo nome epic pallino aspetta che butto un attimo vi faccio un attimo un po' di due stanno uscendo no ma guarda che alla prossima entri giù il forgione quindi sei qua e mi dici ok sono qua io ti faccio entrare se vai via no che cacchio sì anche tu a cride ovvio ma sono appena sotto di noi ho paura sono sotto la nostra struttura hai pensato se rilasciati un po' prima di stare nella mia live grazie no fai con le patutine pungenti che mi danno fastidio no cacchio no e siccome sono io e pallino siamo no cacchio mi sono chiuso mi sta cagando quindi faccio quello che voglio io ma quanta fortuna abbiamo pallino è che però li abbiamo sotto si va malissimo a spararli sono sotto per dirmi che sto sbagliando per dirmi che sto sbagliando fatti un canale fatti una vita buongiorno arrivederci buonanotte stanno jumpando cosa stanno facendo allora nella prossima Alessandro ci sei Alessandro è un pastore Alessandro Alessandro 10 10 no 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 aia aia no invegato ok invegato invegato 8 7 6 5 4 3 2 no porca macca allora Alessandro si è stato chiamato due volte eliminato dalla lista hai falò forgione forgione ci sei forgione 10 no che cacchio sti errori quel 90 8 7 uè grande Michael bella bravo musica 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 musica